Ciao a tutti da Poderac, in questo video andrò a recensirvi un nuovo orologio Brasalet Fitness di Empove. Si tratta di un modello che vi permette di monitorare i passi, le calorie, il basizio cardiaco, il sonno e altre funzionalità molto interessanti. Direi di andare a vedere come funziona e vi racconto un po' la mia esperienza per dirvi se conviene acquistarlo oppure no. Partiamo subito con la sigla. Eccolo qui lo Smart Brasalet, è ben fatto per quanto riguarda i materiali e anche il design e tutto il resto. Abbiamo addirittura per la prima volta il logo Empove sull'orologio e sono rimasto contento per il design in generale. Parlando delle funzioni abbiamo la possibilità di visionare l'ora e il giorno anche la batteria. Per quanto riguarda la batteria possiamo qui togliere i due lacci e vedete abbiamo questi contatti, lo colleghiamo al computer e lui si ricarica completamente in 45 minuti. Per quanto riguarda invece la sua durata e autonomia parliamo di circa due settimane, dipende ovviamente dall'utilizzo che fate. Per quanto riguarda la reattività invece vedete ogni volta che lo si gira lui si accende, nel caso non dovesse farlo ma diciamolo fa 9 volte su 10 possiamo passare con il dito e lui si attiva. Possiamo visionare come vi ho detto data ora lo stato della batteria e possiamo scorrendo vedere i passi, il record lo si può impostare dall'applicazione che vedremo più avanti. Io ho messo 8000 passi perché penso che siano quali giusti. Poi abbiamo il sensore del battito cardiaco molto preciso ovviamente deve essere ben appoggiato sul polso o sul dito e lui vi misura. Poi possiamo impostare anche se stiamo utilizzando il braccialetto per correre, fare una misurazione della camminata. Possiamo anche indicargli qualcos'altro come una pedalata oppure il sollevamento pesi, una partita a calcetto oppure possiamo tornare indietro. Facciamo finta che stiamo facendo una camminata, teniamo premuto per qualche secondo, lui parte con la misurazione del battito cardiaco, quanti chilometri abbiamo fatto e tutto il resto. Stoppiamo, lui invia all'applicazione tutto l'esercizio ovviamente essendo breve, questa volta non l'ha fatto. Un'altra funzionalità carina quando c'è il bluetooth attivo, lo capite da questo simbolino che c'è avanti, potete far squillare il telefono se non lo trovate. Ovviamente deve stare nel raggio di 10 metri, eccolo, non so se sentite che vibra. Lui sta vibrando e vi aiuta ad esempio se l'avete dimenticato sul divano, non lo vedete, lui vibra. Andiamo a vedere insieme l'applicazione, vedete è lingua italiana, lo trovate sia su iOS sia su Android, al massimo vi lascerò il link qui sotto in descrizione. Le traduzioni non sono perfette, vedete c'è un po' di francese, a volte ci sono vocaboli inesistenti tipo sonnare, però possiamo dire abbastanza intuitiva. Allora qui abbiamo la possibilità di vedere quanti passi abbiamo fatto, ci dice anche sotto quanti esercizi abbiamo fatto, tipo allenamento per la forza, che ci dice per quanto tempo l'abbiamo fatto, il battito cardiaco, quante calorie abbiamo perso. E scorrendo possiamo vedere ad esempio il sonno, ovviamente si attiva in determinate ore, nelle ore notturne e dovete avviarlo, io questo qui non l'ho ancora fatto. Poi possiamo vedere il battito cardiaco, ogni 15 minuti lui invia un segnale al telefono indicando il battito cardiaco, ci dà anche un'informazione riguardo al corretto battito. Possiamo dirgli anche, guarda avvia adesso una misurazione e dimmi quanto è il mio battito. Ovviamente possiamo dirgli di non misurare il battito cardiaco in continuazione. Qui in alto a sinistra possiamo vedere una statistica del nostro battito, così possiamo dire se è regolare oppure ci sono dei picchi. Premendo i tre pallini possiamo vedere qualche informazione in più, ovvero il FAQ, ovvero aiutare, ci dice un po' qualche aiuto. Possiamo vedere la versione del nostro braccialetto, possiamo vedere la batteria. Come funziona l'associazione? Voi trovate Empov H2 via bluetooth e lui si attiva. Vi chiede anche di attivare il GPS, penso che questo sia dovuto dal fatto che vuole misurare con più precisione il conteggio dei passi, altrimenti non so bene il motivo per cui vi obbliga più o meno ad attivare il GPS. Abbiamo la possibilità di dirgli di trovare il telefono, di far attivare il braccialetto quando muoviamo il braccio e non solo tramite touch. Possiamo avviare il promemoria intelligente, basta che voi gli date il consenso e lui vi fa ricevere gli sms, i messaggi wechat, le mail, le notifiche facebook, whatsapp eccetera eccetera. Potete indicare quanto deve vibrare perché ha una piccola vibrazione, ad esempio quando vi chiamano potete dire metti alto che così lo sento la chiamata. Possiamo impostare degli allarmi e possiamo anche attivare il classico promemoria che c'è molto spesso in Cina, ovvero promemoria sedentario. Vi dice dalle 9 alle 18 ogni tot, ad esempio ogni 30 minuti avvisami di alzarmi. E poi qui possiamo impostare il nostro nome, cognome, quanto pesiamo e tutto il resto. Tirando le somme che cosa posso dirvi di questo orologio? Allora mi è piaciuto esteticamente, anche i materiali sono classici e in POV, infatti nel mio canale trovate diverse recensioni di questa azienda e sono molto buoni. Questo qui anche lui ha delle ottime caratteristiche, è perfetto per misurare il bacio cardiaco che è molto preciso, il conteggio dei passi, il numero di calorie perse, diciamo è ben fatto. L'unica cosa che ho notato è la luminosità, è l'unica cosa che non mi è piaciuta di questo orologio, infatti quando esco, soprattutto al sole, il display è praticamente invisibile, cosa che invece non ho riscontrato in precedenti orologi che ho recensito. Questo è buono perché vi fa durare la batteria praticamente per due settimane, però diventa praticamente inutile appena correte e dovete vedere l'ora e il bacio cardiaco perché non si vede. Facciamo anche l'applicazione un po' da sistemare per quanto riguarda le traduzioni che sono un po' in francese, ci sono alcuni verbi che non esistono, mentre per il resto nulla da dire, funziona bene, può essere un orologio da acquistare. Quindi se siete interessati vi lascerò qui sotto il link in descrizione. Per questo difetto della luminosità io vi consiglio l'acquisto se dovete correre, se invece lo dovete utilizzare semplicemente per misurare il bacio cardiaco quando siete a lavoro, magari può essere una valida scelta, anche perché il prezzo è contenuto. Mentre se volete qualcosa di più efficiente, magari vi consiglio di andare a vedere le mie altre recensioni sempre di Orology & Pove che funzionano allo stesso modo, magari cambia un po' il prezzo, il design, però in termini di funzionalità sono abbastanza simili. Mi raccomando se il video vi è stato utile lasciate un bel like, iscrivetevi al canale, lasciate un commento se avete dubbi, domande e curiosità e noi ci vediamo al prossimo video, ciao!